Una cosa napida. Matteo, un augurio ai ragazzi di seconda generazione di Alletania per la cittadinanza. L'augurio è quello di essere cittadini. Essere cittadini è qualcosa di più di essere dei numeri. Essere cittadini non significa essere codici fiscali. Essere cittadini significa avere tutti i diritti, nessuno escluso. E i doveri. E tanti doveri. Il primo dovere è quello di cercare di vivere questo paese che abbiamo bisogno di voi. Siamo già due. Da parte vostri sarà un grande contenuto perché l'Italia di domani sia l'Italia più bella. Speriamo, speriamo. Ciao.